Chiara Ferragni ha partecipato al matrimonio della sua amica Veronica Ferraro, uno degli eventi più seguiti sui social grazie alla presenza della celebre influencer. Durante la giornata, Chiara ha sfoggiato ben tre look diversi, attirando l'attenzione di migliaia di fan e appassionati di moda. Al suo arrivo ha indossato un abito elegante, perfetto per la cerimonia, condividendo subito le immagini sui social. Durante la festa ha cambiato outfit, optando per uno stile più audace e moderno, che ha nuovamente riscosso grande successo online. Il terzo look è stato riservato per il dopo festa, dove la Ferragni ha mostrato un outfit casual ma chic, dimostrando ancora una volta il suo innato senso dello stile. Ogni cambio d'abito è stato immediatamente postato sul suo profilo social, diventando virale nel giro di poche ore. Grazie alla sua notorietà come fashion icon, i suoi follower erano impazienti di vedere le scelte stilistiche per questo evento speciale, dimostrando come Chiara Ferragni riesca sempre a essere al centro dell'attenzione nel mondo della moda. Numerosi erano i commenti e le condivisioni, confermando il potere di Chiara come influencer e fashion stylist di fama internazionale.